Un incontro intitolato La Biodiversità, difendiamola. Questa è la bella esperienza che hanno vissuto i piccoli studenti della classe quarta B del plesso Dante Lighieri di Sciacca, guidato dal dirigente scolastico Giuseppe Graffeo. Si è trattata di una giornata molto importante, esito conclusivo e frutto di un lavoro interdisciplinare, svolto durante l'anno sulla biodiversità, lavoro che si collega al progetto Kairos sulla valorizzazione e sull'accettazione delle differenze, progetto proposto dal Lions Club Sciacca Host, preseduto da Giuseppina Bonafede, intervenuta nel duplice ruolo di social Lions ed insegnante. Mentre la responsabile nazionale del progetto Kairos è Emanuela Candia. Lo scopo è stato quello di sensibilizzare ad attuare comportamenti corretti e consapevoli nei confronti dell'altro e dell'ambiente. Tutte le azioni messe in atto durante l'anno scolastico si sono svolte con gioia e soprattutto con la consapevolezza che solo il rispetto rende migliori e dà a tutti l'opportunità di migliorare gli altri. Con tanto interesse ed entusiasmo i ragazzi hanno preparato le relazioni, la locandina e tutto ciò che è servito alla buona riuscita dell'evento. Un'esperienza da persone grandi è stata la loro affermazione a conclusione dell'incontro. Per la prima volta hanno vissuto l'esperienza di essere relatori, moderatori e di partecipare ad un dibattito sulla tematica in questione. Oltre agli studenti è intervenuto pure il maestro di strumento musicale Salvatore Bavetta, che ha agliettato i presenti sulle note dei Giardini di Marzo. Sono un membro del creato e desidero essere salamato, allegro e gioioso, corro nel prato, per scoprire com'è bello essere accorrezzato. Con il sole e con il vento mi sento il cuore felice e contento. Con gli ingenti e con gli uccelli ascolto melodie molto belle. L'ecosistema devo tanto amare, se è la biodiversità voglio salvare. Corro felice e spensierato su questo immenso e colorato prato.